Allora, quindi qua... sei nero? Mulleo era il tuo nickname, non mi ricordo. No, io... Sarai San? Sì. Ok. Però aspetta, io non vedo niente. E dovresti vedere una schermata di condivisione... Guarda in diretta. Esatto. Devi cliccare su guarda in diretta. Vedi la schermata di OGS? Perfetto. Grazie. Allora, quindi sei bianco. Qua tutto normale. Ovviamente in qualunque momento mi puoi fermare a fare domande. Io intanto vado, diciamo, libero. Ok, quindi nero fa... apertura di San Renzo e sulle tre stelle. Tu, diciamo, la copi. Lui espande. Invasione nell'angolo. Ok, fin qua è Gioseki. Ok, questo... vabbè, ovviamente qui nero sta cercando di creare il suo moio qua, sul lato destro, un po' anche lato in basso. Questa è fattibile. Localmente è una continuazione normale del Gioseki che cerca di schiacciare bianco per terra, cioè in seconda linea. Ovviamente se bianco si limita solo a rispondere, nero accumula troppa influenza e bianco non ci guadagna praticamente niente in seconda linea, quindi è sconveniente. Infatti, come hai fatto in partita, di solito si tende a spingere qua e localmente nero deve stare attento a questo taglio che può originare un combattimento a un certo punto, perché tanto l'angolo è vivo qua, nero non può fare niente. Sono sicuramente due occhi localmente. Quindi qua bianco ha una scelta, può o tagliare subito e iniziare un combattimento, o giocare da un'altra parte a un altro punto grande, o quello che vuole. Però localmente c'è questo taglio qui, nero deve stare attento. Qui ho fatto ane connessione, che è una mossa grande, però dà un po' la possibilità a nero di rinforzarsi tanto a livello di influenza. Ok, nero connesso. E poi ho preso un punto grande, alla fine va bene. Da nero probabilmente io avrei anche pensato di... Forse questo aiuta un po' tutti e due i tagli, perché... Vabbè, questo ovviamente fixa il taglio in N16. Questo taglio non è più un problema perché aiuta anche l'altro taglio. Al massimo bianco può fare questa clamp. E se nero scende, in realtà al momento non funziona perché viene tagliata. Però magari bianco può minacciare il taglio. Quindi nero difende e poi bianco magari cerca di scappare via e ridurre. Oppure nero si accontenta, bianco si connette sotto, rovina un po' i punti qui in basso. Però magari nero continua a svilupparsi sul resto del govan. Però alla fine anche la mossa giocata in partita localmente va bene, anche se rimane il problema di N16. Ma anche se bianco taglia subito, comunque è un combattimento che è equilibrato. Probabilmente entrambi i gruppi vivranno per conto loro e si continua. Quindi quello F17 è un punto grande, quindi non è sicuramente un errore. Nero continua con l'idea di espandere il moio. Questa come mossa ci sta, anche se forse funziona un po' meglio la shoulder hit. Che diciamo anche, si gioca anche in altre tipologie di partite per tentare di tenere bianco basso. E l'idea è che nero fa un gruppo solido verso il centro e le potenzialità di bianco di far crescere l'angolo sono molto ridotte. Perché alla fine localmente per far crescere il territorio bianco deve fare una cosa del genere. Oppure se taglia qua, nero tranquillamente cede la pietra e continua solo a costruirsi sempre di più il centro. E anche se bianco spinge di qua, è più o meno la stessa cosa. Qua poi nero può decidere come difendere il taglio. E comunque ovviamente è una mossa di riduzione. Per questa anche H16 l'idea è più o meno la stessa. Anche se poi la continuazione locale, se mettiamo caso che bianco gioca altrove, è un po' meno forzante perché bianco non è costretto a rispondere. Non c'è una mossa che punisce il tenuki di bianco. Anche se magari gioca a questa non aiuta tantissimo. Cioè si può fare, è una continuazione però se bianco fa tenuki a questa la forma di nero è migliore. Però va bene, sono dettagli. Ok qua ho iniziato a tagliare, adesso il combattimento è più o meno simile a prima ma H16 aiuta un po' di più il combattimento che viene fuori. Ok, da ritagliare direttamente in realtà aiuta bianco. Ok, quindi nero ha deciso di sacrificare N17. E si connette. È fattibile. Alla fine bianco ha guadagnato dei punti in alto ma non tantissimi. Le pietre di nero sono abbastanza ben connesse. C'è solo una possibilità di eventuali tagli futuri. Se magari bianco fa una cosa del genere. Potrebbero entrare in gioco delle scale ma al momento no perché ci sono degli atari che danno fastidio. Però se vengono aggiunte delle pietre nella zona magari c'è qualcosa dopo. Proprio adesso va bene come connessione. L'unica cosa è che è gota e quindi adesso tocca a bianco. L'alternativa è che nero poteva anche magari giocare così. Siccome c'è già la pietra in H16 questo gruppo è abbastanza facile da gestire. Bianco si trova con un gruppo che è un po' fluttuante nel centro del goblin. Il nero può decidere di mettergli un po' di pressione per fare i punti sul lato destro. Che al momento non è chiaro come farlo. Quindi di solito quando non è chiaro come fare i punti si preferisce aspettare e prendere un punto che è comunque sicuramente grande. Tipo giocare F3 e iniziare a costruire qua. Tanto localmente bianco se inizia a giocare mosse ti aiuta a chiudere i punti. Però questa è tutta un'altra partita quindi è inutile stare a indagarla. Era giocabile. E basta in realtà. Magari si poteva anche giocare una cosa del genere. Però cambiano un po' le forme però più o meno la stessa cosa. Nero deve cercare di guadagnarci qualcosa attaccando queste tre pietre anche se non è facile. Alla fine ci sta a sacrificare anche se sono punti facili per bianco e poi nero c'è del sente. Adesso inizia a essere un... In questo tipo di partite bianco deve stare molto attento a come gestisce la riduzione del moio. Perché si aspetta troppo di rischia che il moio diventi troppo grande. E se invade troppo presto comunque si concretizzano tanti i punti. Allora, vabbè intanto bianco ha dei punti sicuri che sono questi. Sono 10 punti. 12 punti, no, 12 punti, anche 14. 14 punti qua, qui una decina e poi influenza sul lato sinistro e il comi. Quindi sono 20, 30, 37 e mezzo e qualcosa qui. Quindi diciamo sui 45 punti. Il problema è che con questa influenza nero rischia di fare 50 punti anche solo in questa zona. Quindi penso che sia il momento di iniziare un po' a ridurre. Vediamo prossima mossa della partita. Ok. Me lo difende. Ok. Questo G12 è una mossa un po' fluttuante. Localmente la difesa più sicura dal taglio diciamo che è questa. Si toglie tutti i problemi e tutte le pietre sono collegate. È un po' la stessa situazione che avevamo qui. Però bianco diciamo che a livello di punti non è cambiato molto. Ma la connessione di nero è molto più solida. Quindi diciamo dopo questi scambi ci ha guadagnato nero. Quindi K16 aiuta più nero che bianco. Questa G12 potrebbe andare comunque bene perché comunque fa funzionare la scala per nero. Quindi indirettamente funziona lo stesso per difendere il taglio. E prova comunque a ingigantire il moglio. Quindi ci sta. E quindi adesso sempre di più inizia a essere urgente a dividere, cioè a ridurre il moglio. E in questi casi vuoi creare un gruppo vivo dove nero ha la maggior parte dei suoi punti. E quindi sul lato destro. Quindi i punti di invasione che mi verrebbero in mente sono... Anzi, prima di dirti i punti di invasione che mi vengono in mente a me. Vediamo per come è andata avanti un po' la partita. Ok, difusi il lato sinistro. Poi lui invasò il Sansan. Iniziato a ridurre. Sviluppato un po' la partita. E poi invaso. Eh, ero costretto, altrimenti... Sì, sì, dopo iniziava a diventare veramente troppo, troppo grande. Ok. Quindi è invaso in R16. Vabbè, andiamo avanti che comunque avete giocato un Juseke in basso a sinistra che come cosa ci andava bene. H3 è un pochino piccola qua. Localmente nero probabilmente faceva meglio ignorare. Magari poteva fare questo scambio G3 e poi ignorare perché J2 è piccola. Cioè, è vero che concretizza un po' i punti qua, ma non sono tanti. Qui da nero avrei fatto Tenuki e iniziato a chiudere il lato destro. E qua, tanto nero e bianco è costretto a invadere, non è chiaro dove invadere. Se magari inizia a invadere qui in basso... Aiuta un po' nero a concretizzare il centro che diventa veramente gigantesco. Quindi qua penso che sia il momento adesso di invadere. Quindi qua le invasioni sono R6, che è quella che gioca tutto in partita e va bene. Alternativa R8. O3 la scarterei perché è troppo facile per nero cercare di pressarti in basso. E anche perché qui non c'è una buona istensione. Nero comunque tiene la metà dei punti nell'angolo e riesce più o meno a chiudere abbastanza bene il centro. E in pratica adesso bianco è di nuovo costretto a invadere ed è difficile trovare un buon punto. Tipo questa adesso probabilmente muore tranquillamente. Dovresti buttare una pietra lì in mezzo e sperare di farla vivere. Però è veramente difficile perché adesso il limite del moio è praticamente diventato questo. E se giochi in una cosa del genere forse anche se il nero si limita a prendersi questi punti forse è avanti lo stesso perché sono troppi. Quindi va bene giocare sul lato destro. Vabbè se si vede R8 probabilmente si sarebbe andato avanti così. Dove probabilmente... Vabbè nero ti insegue. Tu in qualche modo riuscirai a vivere, comunque a collegarti a qualcosa. Lui concretizzerà questi punti. E qualcosa qui in basso. E ci sta qualcosa. Quando invadi il moio, diciamo, almeno metà del territorio è normale che venga tenuto dall'avversario. Però almeno è scongiurato il pericolo che diventasse tutto moio. Quindi andiamo avanti. Nero protegge. E qui ho iniziato a vivere sul lato. Qui volendo potevo anche pinzare nero. Con l'idea che se tu sacrifichi la pietra per andare in angolo ti funziona abbastanza bene per costruire il centro. Contando che qui ha perso qualcosa nero perché ha giocato questa J2 che è una mossa di fine gioco. Quindi qualcosa ci ha perso col fatto che ha fatto invadere per primo bianco. Però va bene. Anche quella che ha giocato in partita il kick era giocabile. Di solito al kick si risponde quasi sempre perché se lui ti pinza subito hai abbastanza forzanti sulle due pietre per assestare il gruppo. Quindi normalmente vieni fuori una cosa del genere. Non è importante se non te lo ricordi però potrebbe capitarti di vederlo. Tipo se qui... Sì no, capita il kick. Esatto, quindi se ti fanno il kick tu estendi e loro se ti rispondono sul lato ok hai modo di iniziare a fare una base da queste parti e cerchi di tenere la testa fuori per scappare verso il centro. Con l'idea che se tanto ti mangiano una pietra a te non ti interessa tanto salvare una pietra ma fare il più velocemente due occhi. Così sei praticamente già vivo se mangiano quella pietra. Mangia... sì. Che se ti metti a connetterti qua ti chiudono troppo facilmente e anche se vivi si sono fatti un muro troppo forte. Se invece loro invece di difendere il lato ti provano subito a togliere la base questa minaccia di chiudere le due pietre quindi normalmente loro ti rispondono. Stendi e poi ci sono... puoi iniziare a sfruttare i tagli. Stendi. Questa è forzata perché altrimenti non catturo le pietre. Questa è la tari. Questo mi faccio di catturare le pietre. Questa è la tari. E tu hai fatto una buona forma con l'idea. Ho due sacrificabili e queste sono tutte le pietre che hanno fatto una buona forma. Qui è praticamente già un occhio. E gli hai ridotto... gli hai ridotto bene il lato. Quindi di solito si... è per questo che si difende dopo il kick. Diciamo ad alto livello... Diciamo un giocatore Dan cerca di romperti un po' le uova nel paniere. Quando giochi così tende a crearti dei tagli. Quindi potrebbe venire fuori una roba così. Anzi no. In realtà per toglierti il problema viene... si deve togliere il taglio. Però comunque Bianco riesce a fare un gruppo che è gestibile. Aspetta qui fammi controllare un attimo se... Ma qui la scala non funziona quindi è meglio il salto di uno. In entrambi i casi comunque Bianco riesce tranquillamente a gestire il gruppo per farlo scappare fuori se viene subito pensato. E se invece fai tenucchi a questa pietra... La continuazione sarebbe Q6. Che se tu rispondi e basta... Hai il tempo di tornare a giocare la mossa che ha giocato in partita. Ed è contento perché praticamente ha avuto sto scambio gratis. E anche se non ti riesce a uccidere ha tenuto tutto l'angolo e inizia a sviluppare il lato basso. Perché alla fine per nero non è che deve per forza uccidere tutto. L'importante è che riesci a... A trasformare in territorio tutto il più possibile intorno a quella zona. Se fa come in partita... Vabbè ti risponde e basta. Diciamo che questa è la forma importante per entrambi perché ti rovina la possibilità di fare occhi. Già così comunque va bene. Tu hai una forma un po' scomoda che magari riesci a vivere però... Alla peggio nero praticamente ha consolidato tutto il resto. Questi diventano punti, questi diventano punti e tu hai comunque quel gruppo appeso. Quindi diciamo ricordati che estendere qui è super super... Ti aiuta tantissimo a livello di forma. Anche perché poi... Quando queste pietre scappano e si rinforzano diventa fattibile anche... Invadere il Sun Sun dopo perché ti crea molte forzanti. Quindi facciamo finta che la partita va avanti così. Quindi si va avanti, tu sei vivo, la partita continua. E a un certo punto tu hai questa che dà molto fastidio perché... Nero ti deve separare. E ci sono tutte queste mosse che sono fastidiose. Che prende Vivi nell'angolo. Vivi col minimo indispensabile, però prende gli e hai tolto tutti i punti. E se nero ci perde una mossa per tenersi quei punti, tu allora avrai una mossa gratis da un'altra parte per mantenerti in vantaggio. Ma non so con questo Goban quali siano i punti più grandi probabilmente da queste parti. Non lo so. Ok. Andiamo avanti un po' con la partita. Questo non lo sono andato un po' per la tangente a livello di analisi. Quindi questo punto è super importante per entrambi perché rinforza il tuo gruppo. E indebolisce le due pietre nere. Però nero ha giocato questa. Che immagino... Vabbè, chiude i punti qua e cerca un po' di racchiuderti alla lontana. Qui ha iniziato il contrattacco, lui si difende, chiudi, lui si difende, ti inizia a connetterti con le pietre. E alla fine ti è andata bene perché in realtà questo taglio al momento non funziona perché se ti tagli adesso hai le altre pietre che ti aiutano a catturare le pietre nere. Quindi sei totalmente connesso. Ed è un buon risultato perché nero è stato costretto a vivere staccato dal resto delle pietre nell'angolo. E queste tre pietre sul lato si indeboliscono perché se sono costrette ad un certo punto a connettersi in seconda linea sarebbe un bel dispiacere per nero. Rispetto a come poteva diventare la partita. Quello teoricamente quando nero ha giocato j2 l'ha fatto perché voleva concretizzare dei punti qua e alla fine tu sei riuscito a separarlo. Quindi in pratica j2 adesso è una mossa ancora più infelice. Qui teoricamente nero invece doveva cercare di tenerti separato. Quindi ho giocando questa che è la mossa che funziona per entrambi. Dopo questa il gruppo di nero è fortissimo perché praticamente si assicura di vivere in angolo e ti tiene separato. Quindi o queste pietre o queste due, almeno una delle due muore per forza perché non c'è modo di connetterle. Basta tenere tutto separato e uno dei due muore, probabilmente. Però non è successo, quindi qua vediamo se nero si inventa qualcosa. Qui volendo anche magari... Vabbè questa ovviamente non funziona anche solo dando questo atari e poi connettendoti si vede che sei connesso. Però è un po' simile a quello che è successo in partita. Ok, questo è comunque esente perché nero non può tagliare, altrimenti viene mangiato. Infatti si difende e poi torna indietro, quindi hai avuto uno scambio buono. Ok, nero torna indietro da difendersi. E tu puoi fare ane su quelle pietre che alla fine si sono dimostrate un po' un attacco fallito. Perché se voleva essere un modo per appesantire queste pietre, a questo punto probabilmente era meglio una, semplicemente una mossa così. Però in realtà questa pietra è troppo lontana dalle altre pietre di nero, quindi non la riesci a tenere collegata. Quindi ormai una volta arrivati a questo punto nero ci deve un po' stare che sei vissuto. E al massimo cercare di darti fastidio. Così forse riesci a collegarti decentemente e fai un po' di influenza. Altrimenti comunque sei ben connesso. Questo sembra... O7 sembra dare un pochino più fastidio. Così finisce gote, però probabilmente bianco comunque qui aggiunge qualche mossa per fare sicuramente due occhi. In qualche maniera. Oppure bianco potrebbe provare ad attaccare queste tre pietre che non sono chiarissime, in maniera molto chiara collegata. Già era un po' meglio della partita. Una volta che invece bianco riesce a fare O7, nero è un po' costretto a cercare di salvare tutto. E nero si ritrova adesso con questo gruppo che è separato, oppure che deve perdere una mossa per collegarsi in seconda linea. Quindi per com'è messa adesso la partita direi che bianco dovrebbe essere avanti, perché praticamente nero ha solo questi punti. Poi ho perso. Vedremo come evolve la partita, però per adesso... Praticamente la partita è buonissima per bianco, perché già se contiamo solo questi punti... Quindi senza contare il lato sinistro, bianco dovrebbe essere avanti. Sì, c'è quest'angoletto però più o meno, ecco, qualcosa qui. Ancora c'è il comi. Però non è ovviamente una differenza così alta da chiudere subito la partita. Bisogna sempre stare attenti fino alla fine. Qui, questa Atari ha aiutato un po' più nero. Cioè volendo anche semplicemente estenderlo qui... Potevo risparmiarmelo a fare qualcosa di più proficuo. Quindi qua probabilmente il nero dovrà difendere una cosa del genere. Qua magari continui un po' a pressarlo. Anche così comunque che sei collegato perché non c'è il problema dei tagli. Hai la testa fuori. E se nero non perde una mossa per connettersi, mettiamo che gioca una mossa grande da un'altra parte. A questo punto lo puoi disconnettere tu e cerchi di... Cerchi di ammazzare tutte le sue pietre. Quindi in qualche modo nero dovrà vivere. Quindi in pratica mettere la testa fuori con tre praticamente sente per nero. Per cercare almeno di fare qualcosa. O si connette qua in basso. O cerca di vivere in altro modo. E tu magari ti puoi prendere una mossa per giocare una mossa grande altrove. Che non so quale può essere. Una mossa da queste parti potrebbe essere grande probabilmente. Ok, andiamo avanti con la partita. Quindi qua bianco penso che sia abbastanza... Si possa considerare vivo perché qui ci sono parecchi spazi. Questa mette pressione al gruppo di nero che a un certo punto potrebbe dover giocare in seconda linea. Si difende, tu estendi. E quella... Forse era meglio che la facessi io, quella mossa lì. Quella sono parecchi punti. Perfetto. Cioè nel senso, nero non ne guadagna tantissimi, però li toglie a bianco. A casa è un pochino lenta. Perché è difficile in effetti uccidere quel gruppo. Perché se nero alla fine si riesce a prendere questa, tu sei un po' costretto a guadagnarci qualcosa dall'attacco di questo gruppo. E in pratica in realtà nero come una mossa si collega. Quindi è difficile vedere cosa ci ha guadagnato bianco. Quindi in quel caso qui bianco dovrebbe fare tennucchia e giocare qua. Perché tanto localmente qualunque cosa nero fa da queste parti a te non ti interessa perché sei vivo nell'angolo. E quindi continueresti a prenderti i tuoi punti magari. Già qui tutti i gruppi sono vivi ed è quasi iniziato il fine gioco. Magari inizio a ridurre un po' questa zona per evitare che diventi troppo grande. Se facciamo un assimo punteggio qui. Bianco avanti di 17. Quindi basta che... cioè nero non ha modo di creare altro territorio grosso altrove. E quindi è già iniziato il fine gioco. Quindi h6 sembra un po' la mossa che dà una chance al nero di recuperare. Tu ovviamente lo blocchi. E lui inizia a cercare di fare punti al centro che in effetti non è chiarissimo. Più di altro questa mossa è problematica per due motivi. Una che inizia a chiudere questi punti qua. Però alla fine dalla stima punteggio che abbiamo fatto prima quei punti sono di nero. Quindi anche se li prende tutti... Bianco era avanti di 17 circa. Però qui si sono persi un po' di punti. Quindi probabilmente la partita è vicina anche se bianco li prende tutti... Anche se nero li prende tutti. Facciamo una stima punteggio anche se sarà approssimativa molto molto molto. Qua mi dà sempre più 17 per bianco. Però se no... non lo vedo molto affidabile. Però comunque bianco non è messo male anche così. Quindi il problema è che bisogna stare attenti a non farsi prendere dalla paura che quel territorio diventi gigantesco. Perché il problema di H9 non è che solo inizia a chiudere questa zona. Ma che minaccia anche di tagliare le pietre bianche. Perché qua c'è molto spazio e nero potrebbe fare casino. Quindi mossa a caso tipo questa non è facile da gestire. Tutta una serie di tagli che si dovrebbero leggere. Ci potrebbe essere uno scambio che bianco si tiene questa e nero guadagna quell'altro. E perché altrimenti... Comunque nero e bianco è dettagliato. Non vedo modo di tenere tutto connesso. E qua sono mia e i nero tagliacqua, tagliacqua. E qua non è... Probabilmente bianco riesce anche a vivere lì dentro. Però ha ridotto parecchio di questa zona. Potrebbe esserci addirittura dei laggi nell'angolo. Per far casino se ci si aggiungono altre pietre. Ok, quindi si connessa. Ecco, questa un po' ti aiuta perché... Se tu dopo gli rispondi qua a tutto l'aggi che abbiamo visto prima non c'è più. Vabbè, quella che sente. Questa è sente. Questa è sente. Ok, qua si accorge che non ti vuole far connettere troppo facilmente, però... In effetti è un po' rischioso per bianco. Ah no, ok, ti ha lasciato connettere. Questa non è molto efficace per nero. Qua ti ha un po' graziato perché poteva effettivamente... No, vabbè, in realtà sì. No, vabbè, non è chiaro per nero cosa possa fare perché... Qua si connette sotto, qua la scala è buona per nero in realtà. Nero. Quindi questa poteva essere in effetti problematica. Non è chiaro qua bianco cosa possa fare. Andrebbe o scappare da questo lato. Eh, però non è facile connettersi a quelle altre pietre, quindi sì, ecco, è rischioso, però è andata bene. Ti sei connesso e qui... Questo taglio al momento non funziona perché ci sono troppe pietre bianche nella zona. Quindi sei a posto. Al limite quella pietra tu la sacrifichi perché non ti interessa molto. Che invece se difendi qua questo taglio a quel punto diventerebbe un problema. Quindi sei connesso. E questo in realtà puoi fare tenuki perché non sta minacciando molto. Se giochi un'altra mossa grande... Non lo so, qualche cosa magari... Da queste parti che un po' riducono qua e un po' minacciano di scollegare il gruppo nero se il nero non fa niente. Quindi non ci sono grosse continuazioni. Al massimo c'è questa che ti ha ridotto un pochino, ma non c'erano tanti punti comunque in quella zona. Va bene, qua difendi, lui estende ancora e tu prendi un punto grande che è molto... Questa pietra diciamo che... Cioè diciamo questa zona è sicuramente più interessante a livello di punti di F7. L'unica cosa è un po' un problema con i tagli che ti lasci dietro. Dovrei essere quasi un po' costretto a giocare in seconda linea perché almeno sei difeso da tutti gli eventuali tagli che ci sono. Così non hai problemi. Invece in partita qua... Ok, lui cosa ha giocato? Ha giocato qua. Però praticamente già se spinge... Qua vedi, qua non lo puoi bloccare perché ti taglia. Qua sono miei a giocare qua o tagliarti. Quindi in questi casi il keima ti può essere utile. Però lui non... Diciamo ti ha fatto un piccolo regalo. Ti ha dato la possibilità di tornare indietro. Quadricamente. O difendi qua o difendi qua ti togli il problema e sei tutto connesso. Tanto queste due pietre... A parte che rischiano di essere separate se il nero non ci aggiunge una mossa. A livello di punti per nero non fanno niente. Sarebbero meglio posizionate magari giocando da queste parti e chiudendo questa zona. Però mo' siamo praticamente al fine gioco perché è tutto vivo. È solo questione di ridurre il territorio avversario. Questa non so se funziona. No, infatti, no però... No, non funziona. Non ci sono cose. Però ci sta a provare. Aspetta che qua è successo... Quando è successo? Ah, infatti questa... Questa funziona. Perché è vero che ti fa mangiare due pietre però hai perso l'altro pezzo. Però, eh sì. Sì, sì, sì. Ho perso il gruppo. Quindi in pratica qui... Qui in effetti è già troppo tardi perché non hai modo di salvare quelle pietre perché è troppo... Questo è un bravo nero perché in effetti quello era difficile. Quindi vuol dire che... Qua bianco è costretto... A giocare sotto. Quindi il bianco è costretto a difendere da queste parti e poi nero rovinerà i punti in questa zona. Eh, questo è praticamente obbligato. Ok, quindi E15 in effetti era più... Cioè, più che altro E15 con J16 è assente. Perché se taglia adesso... Non credo abbia libertà. No, se così non funziona... Così... Così... No, in realtà così no. Ecco, probabilmente ci dovrebbe essere una forma che cattura tutto. Forse è questo. Questo sembra funzionare. Sì, questo penso che continua le pietre, quindi... Una volta che è nero... Un gioco a G16 si è costretto a tornare indietro. E quella partita è troppo grande qua perché... Qua sono troppe troppi punti. Ebbè, quindi qui è finita. Non c'è più niente da fare. Eventuali svari... Sempre è buono cercare di mantenere la partita complicata che c'è sempre spazio per errori. Esatto. Però... Ovviamente è difficile, però ci si prova. Ecco, già qua hai guadagnato qualche... No, non hai guadagnato qualcosa perché puoi giocare ancora a quello. Sì, sì, sì. Vabbè, ovviamente la partita è già finita prima, però ci si prova. Ok. Quindi abbiamo visto tutto. In realtà è giocato bene, è stato solo un problema... Ah, tra l'altro potevo rid... Aspetta che ho ridotto troppo, mi sa che l'ho tagliato fuori da... Lo stream. Ah, no, in realtà c'entrava. Però vabbè. È giocato bene, è fatto solo un errore di... Cioè, una mossa un pochino lenta che le ha dato la possibilità di ritornare in partita. Ed è stata... Ed è stata... Se il computer mi assiste... Devo... Qui. Questo H6... Perché se al posto di H6 riesce a difendere il lato sinistro... 6 sono per chi punti? Sì, qua dovrebbe essere buono per Bianco. Ovviamente farà un po' di punti al centro. Perché magari è una cosa del genere e tu lo riduci. Però... È più vicina di 17 punti, però magari riesce a vincere di 4-5 punti. Ci sta. Per il resto è andato bene. Devi stare un po' attento all'invasione a destra. Perché... Questo è l'altro unico errore... In pratica gli errori sono stati questa mossa in H6 e non l'aver giocato Q6 come estensione... Che Nero non ha sfruttato, però se l'avesse giocato a lui sarebbe andato in vantaggio. Però in effetti, a parte questo e il resto della partita è stato un buon livello. Non ho visto grossi errori di direzione. Questo era molto difficile da vedere, questo è i13 con il fatto che tagliava tutto, in effetti. E... Vabbè, questo è un piccolo errore di forma H17, ma non è un errore grave. Ah, devo usare il K, ma dici? Sì, sì, sì. A livello di... Quando vedi quella forma là, diciamo, è giocare a contatto, va bene solo quando cerchi di difenderti. Perché ti vai subito a togliere una libertà e ti crea un po' di problemi. E per il resto niente. Dimmi tu se hai domande, se vuoi approfondire qualche altra cosa. Sennò più o meno mi pare che abbiamo coperto il grosso della partita. Sì. Forse come un pianto anche in fase di apertura, perché a un certo punto io mi sono trovato... L'ho lasciato troppo a creare il moio, mi sono trovato costretto a fare quell'invasioni. Che poi mi sono andate bene, alla fine. Sì, sì. Vabbè, quello in realtà... Le partite contro dei moio sono molto difficili da gestire. E capita che siano complicate anche per un giocatore esperto. Per farti capire, ma... Nella partita che c'è stata nel campionato mondiale amatori, il rappresentante italiano, che è Sofia, che è uno Q, è riuscito a battere un quarto d'anno, proprio perché lei gioca partite in cui fa dei moio strani. E anche un quarto d'anno fa fatica a trovare... Cioè, là praticamente appena sbagli una mossa stai perdendo tu. E appena ti metti in una partita che non hai mai visto, perché è un fuseki strano, anche se sei un quarto d'anno rischi che vai sotto. Quindi le partite dei moio sono molto problematiche, perché appunto l'avversario è costretto a invadere, se sbaglia l'invasione sta sotto tipo di 20 punti. In queste partite è un po' difficile consigliare, perché dipende molto da... Cioè, non c'è una regola generale. Bisogna essere bravi a ridurre al momento giusto. Qua hai fatto bene a tagliare, perché sfruttare le debolezze della forma dell'avversario è il primo passo per iniziare a ridurre nel modo migliore. E qua pure con R6 hai invaso nella parte giusta. E tipo in questo caso sarebbe stato un errore invadere il Sansane, perché gli dai ancora troppa influenza. Sì, troppo... Sì, troppo... Dalla possibilità di rinforzarsi alla fine. Quindi tutto corretto. Ovviamente se vuoi evitare partite in cui l'avversario gioca a grossi moi o... Vabbè, in realtà il fatto di giocare i D10 non è di per sé sbagliata, però gli dai la possibilità di continuare a mettere... Nelle partite moio contro moio ovviamente Nero ha avvantaggiato, perché c'è una mossa di vantaggio, quindi fa prima lui a costruire qualcosa di grosso. Però alla fine non ci sono mosse che puoi imparare a memoria. Devi affidarti un po' all'esperienza, quindi prova e vedi cosa succede. Perché in realtà alla fine hai giocato bene, non hai fatto grossi errori. C'è stato solo quel momento in cui... Sì, qua l'invasione di Q6 però alla fine ti è andata bene, quindi niente da lamentarsi lì. E basta in realtà. Non ci sono... Nel Fuseki è giocato bene. Hai invaso dove dovevi invadere, e quindi a direzione di gioco non vedo problemi, anzi. Poi è solo esperienza e... Sì, è solo esperienza di gioco e lettura. Ho capito. Bene così, allora. Se hai altre domande, se no questa sera chiudiamo qui. Sì, ti ringrazio. Poi la partita, se vuoi rivedere la review, la ritrovi sul canale della Fig su YouTube. Poi metterò il link sul gruppo Telegram. Ok, perfetto. Buona serata, allora. A te. Anche a te.